In tutta Italia si è festeggiato il 25 aprile, un pensiero a chi ha lottato per la libertà della nazione, le storie di chi ha dato la vita per la patria e dei protagonisti dalla resistenza. A Gandino una radio clandestina contro i nazifascisti, a Casningo l'ultima vittima della Valle Seriana. Crolla una parte di tetto nell'ex scuola di Sant'Anna ad Albino, strada chiusa al traffico e ai pedoni, si tratta dell'ala in cui sorgerà la casa della comunità, i lavori inizieranno ufficialmente a maggio e dureranno più di un anno. La carica dei 600 per la non competitiva Quaterpass in Da Selva, a cura del gruppo sportivo Fiorine, parte del ricavato ed è voluto per i progetti Malawi del volontario Agostino Trussardi. Buonasera a tutti i telespettatori, rieccoci di un nuovo appuntamento con le notizie di Antenna 2. La giornata di festa è iniziata con una caduta in bicicletta per un uomo di 73 anni. Il ciclista è caduto torno alle 9 lungo la strada statale 469 che percorre la sponda bergamasca del lago di Iseo, nel territorio di Parzanica. Sul posto Soreu delle Alpi ha inviato prontamente un'ambulanza dei volontari di Sarnico e un'automedica ed è stato necessario anche l'arrivo del soccorso proveniente da Bergamo. I soccorsi sono scattati in codice rosso. L'uomo è stato poi portato al poliambulanza di Brescia in codice giallo. In elicottero per i rilievi dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusione. Apriamo la pagina dedicata al 25 aprile. A Gandino la festa ha avuto un sapore speciale. Tra le tante splendide storie della resistenza gandinese si è ricordata quella di Giuseppe Mosconi che insieme ad un gruppo di amici rischiò la vita nel nome della libertà dando il via ad una radio clandestina. Siamo con Matteo Mosconi, siamo a Gandino. Oggi è una giornata speciale per la tua famiglia. Si ricorda nonno Giuseppe nel giorno della liberazione e lui fu tra quelli silenziosi che contribuì a far passare un certo messaggio proprio in quelle settimane, in quegli anni finali della guerra. Sì, mio nonno scrisse questo diario negli ultimi anni della sua vita che gli abbiamo promesso avremmo letto solo alla sua morte avvenuta poi nel settembre 2011. Quando abbiamo iniziato a leggerlo prima mia nonna Enrica, quindi sua moglie e poi un po' tutti noi, anche noi nipoti, abbiamo trovato al suo interno diverse storie anche di gioventù e tra queste quelle proprio di questa radio trasmittente clandestina che insieme ad un gruppo di amici in totale erano nove ragazzi giovanissimi, andavano dai 16 ai 20 anni. La installarono qua a Gandino in via Mazzini, lontano da occhi indiscreti, così scrive lui, per ripetere le frequenze e i messaggi in codice di Radio Londra che all'epoca dava informazioni sugli avvenimenti bellici e indicazioni ai partigiani sull'arrivo dei voli aerei che lanciavano viveri, vettovagliamenti, munizioni. Ed è una storia veramente interessante perché va al di là anche un po' della nostra Gandino racconta quello che succedeva sui nostri monti, quello che succedeva sul lago ed è una storia degna di un film, di un romanzo perché c'è anche un turning point, un punto di svolta importante col brivido perché furono scoperti e vennero segnalati tramite lettera anonima, probabilmente da un fascista, al comando tedesco che aveva sede in prefettura in via Tasso a Bergamo dove oggi c'è la provincia. Come è andata a finire quindi poi? È andata a finire che per fortuna questa lettera è arrivata nelle mani giuste, c'era la persona giusta al momento giusto ed era il vice prefetto di allora che era oltre che antifascista sotto mentite spoglio ovviamente anche amico del padre di mio nonno che all'epoca era segretario in comune qua a Gandino ed era stato qua a Gandino in comune questo vice prefetto. Allora rispedì la lettera al mittente in comune e chiese al padre di mio nonno di ovviamente dire a questi ragazzi di smetterla con questa attività clandestina perché stavano rischiando la pelle. Però c'è anche da dire che il padre di mio nonno, cioè il mio bisnonno era anche lui un fervente antifascista e addirittura nascondeva gli ebrei in comune quindi non poteva gettar via al vento questa attività clandestina e allora consegnò la radio alla 53esima Brigata Garibaldina che utilizzò questa radio per una delle sue battaglie più importanti, quella di Fonteno dell'agosto del 44. Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali, felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è fionda, la mucca non dà latte, Giacomone bacia malmetto, le scarpe mi stanno strette, il pappagallo è rosso, l'Aquila vola, parla Londra, abbiamo già smesso alcuni messaggi speciali. Al ponte del Costone invece si è ricordato il partigiano Giacomo Adobati di Lonno, frazione di Nembro. Perse la vita in uno scontro a fuoco tra una squadra dalla Brigata Camozzi e una colonna russo-tedesca è ritirata proprio il 25 aprile del 1945. Sentiamo. Ampi Valgandino che ricorda questo anniversario speciale in un posto che ha fatto la storia possiamo dire. Sì, allora qui dove ci troviamo sulla ciclabile della Val Seriana all'altezza del ponte del Costone il 25 aprile, quindi proprio oggi del 1945, quindi 79 anni fa, la Brigata Camozzi decide di intercettare una colonna di fascisti, diciamo di nazi fascisti che poi si stavano ritirando verso la Germania, composta per lo più da russi che erano stati cooptati nell'esercito nazista e decide di affrontarli con la sua formazione, con una parte della formazione che si piazza qui nella tarda giornata del 25 aprile in attesa di questa colonna. La colonna poi arriva e diciamo qui c'è uno scontro a fuoco con questa colonna di russi dove perde la vita Giacomo Dobati di Nembro, di Lonno di Nembro, che era nella Brigata Camozzi dopo aver fatto parte all'inizio proprio della sua esperienza resistenziale della banda Turani che è una delle prime formazioni partigiane della Bergamasca. Cosa si fa 80 anni dopo per ricordare come è composto il vostro gruppo? Allora 80 anni dopo, effettivamente quest'anno che è il 2024, è l'ottantesimo di una serie di eventi che poi sul territorio che noi seguiamo come Ampi Val Gandino, che comprende la Val Gandino ma anche tutta la media valle seriana, ci sono stati una serie di episodi e diciamo che li ricorderemo tutti con enfasi, questo è il 79esimo, gli altri saranno l'ottantesimo e questo è del 45 e cominciamo diciamo poi a luglio con ricordo, anzi prima a maggio ricorderemo il centenario dell'uccisione di Giacomo Matteotti che cade il 10 di giugno del 2024 poi l'11 luglio avremo a Gandino un altro episodio che sono due partigiani che cadono vittime di un'imboscata, il 12 di agosto c'è la commemorazione ricordo dell'ottantesimo che è stato paracadutato Cadorna, comandante del CLN al Monte Sparavera sopra Gandino poi ci sarà al 17 di agosto la commemorazione dell'ottantesimo della strage della Val Vertova a ottobre e a novembre e a dicembre altre commemorazioni sono moltissime e ci stiamo impegnando per dare a tutti il giusto rilievo. Lei è la figlia di Giacomo Adobati, era piccolissima, che ricordi di quell'esperienza? Avevo due anni e mezzo e quello che mi ricordo è stato il giorno che l'hanno portata a casa che nella stanza l'hanno messo sulla sinistra con una cassa tutta bianca neanche pitturata perché una volta erano quattro assi così con una finestrella che io lo potevo vedere qualcuno non so chi mi ha preso in braccio e io l'ho visto, ho visto la faccia che era la testa che era fasciata e sporca di sangue. Sul lato sinistro della stanza c'erano dei militari in divisa con il fucile, lì è il momento che è arrivato. Poi mi ricordo il funerale l'abbiamo portato da basso, era tutto imbandierato, ancora con gli stessi militari, ancora in parata e sono stata lì a aspettare fino a quando sono arrivati i preti, tutto lì. Poi ricordo, è stata raccontata attraverso le testimonianze di chi c'era in questo luogo? Mia mamma non mi ha mai raccontato niente e con la testimonianza del signor Aresi abbiamo avuto la fortuna di poter sapere almeno com'è stato qui al momento dell'uccisione. Ecco, avere un nonno così che emozioni ha dato nella sua vita? Beh, innanzitutto è un onore perché comunque fa parte della storia italiana di tante persone, tante famiglie. avere un nonno così poi morto che ha dato la vita per la libertà ci rende orgogliosi. Poi volevo anche aggiungere che la fortuna nostra è stata circa 10-15 anni fa quando con l'Ampi della Val Gandira abbiamo conosciuto Aresi che allora è venuta a galla proprio tutta questa storia che poi adesso andremo a ricordare con questa manifestazione. Perché mio padre ha sempre lavorato con i partigiani, era dentro nella banda Turani ad Alzano quando invece è stato ucciso il capo, si sono sparsi un po' dappertutto e lui è entrato nella brigata Camozzi di Lanfranchi Giuseppe. Cambiamo argomento, ad Albino è crollato una parte di tetto nelle ex scuole di Sant'Anna. La strada è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale. Si tratta dell'ala in cui sorgerà la casa della comunità. I lavori inizieranno ufficialmente a maggio e dureranno più di un anno. Ad Albino disagi in pieno centro per chi entra in via Sant'Anna. Un crollo di una parte di tetto dell'ala in cui sorgerà la nuova casa della comunità ha costretto la chiusura della strada al traffico veicolare e pedonale per evitare ogni problema. L'amministrazione comunale del sindaco Fabio Terzi, arrivato alla fine del suo secondo mandato, si è così messa in contatto con l'SST Bergamo Est, che da due anni ha il lavoro per la realizzazione della nuova casa della comunità proprio in quei locali. I lavori inizieranno nel mese di maggio, fa sapere a SST Bergamo Est. La parte di tetto distrutta sarà sostituita, mentre l'obiettivo, in accordo con la sovrintendenza, è quello di preservare la parte più storica del palazzo, la facciata che dà proprio su via Sant'Anna. L'investimento totale sarà di 3 milioni di euro. La casa della comunità sarà divisa dal punto di vista dei servizi in alcune macro aree, che seppur distinte devono interagire tra loro, quella di accesso e dei servizi amministrativi, l'area dell'assistenza primaria, quella specialistica ambulatoriale e della diagnostica, quella della prevenzione e promozione della salute, anche attraverso interventi realizzati dall'equip sanitaria con il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione e con particolare riferimento ai programmi di screening, all'attività di profilassi vaccinale e di sorveglianza alle malattie infettive, ed infine quella dell'integrazione con i servizi sociali e con la comunità, l'integrazione di servizi sanitari e sociosanitari con quelli socioassistenziali dei comuni e degli ambiti sociali, attraverso la valorizzazione delle reti sociali. Le case della comunità sono luoghi facilmente identificabili dalla cittadinanza, nei quali è possibile usufruire dei servizi sanitari e sociosanitari. L'esigenza espressa è quella di porre la casa della comunità come punto di riferimento per la popolazione residente, che potrà qui trovare servizi sanitari, sociosanitari e sociali. All'Istituto Fantoni di Clusone, nei giorni scorsi, si è svolta la gara nazionale degli istituti tecnici per il turismo. studenti da diversi parti d'Italia, insieme ai loro insegnanti, hanno potuto conoscere anche il nostro territorio. Per noi, c'era Nicolò Androletti. Si è conclusa la gara nazionale per gli istituti tecnici del turismo, ospitata dall'Istituto Fantoni di Clusone. Com'è stata questa esperienza? Che bilancio possiamo fare? Il bilancio è assolutamente positivo. Dopo i mesi di organizzazione, riuscire finalmente in queste tre giornate a tradurre nei fatti un'accoglienza che abbiamo pensato in tutti i dettagli e speriamo davvero di essere riusciti ad accogliere nel modo migliore i nostri ospiti. Si è svolta la competizione, la gara si è conclusa in due giornate, quindi martedì e mercoledì mattina e tutte le visite che abbiamo pensato sul territorio si sono svolte anche oggi con una bella giornata di sole. Un evento che ha visto la scuola collaborare con diverse realtà del territorio. Sì, con diverse realtà mi permetto di sottolineare l'importantissima collaborazione col Comune di Clusone e la partecipazione anche ad alcune iniziative del nostro sindaco, ingegnere Massimo Morstabilini, del vice sindaco e dell'assessora all'istruzione. Il Comune ha contribuito fattivamente, collaborando appunto con la scuola e offrendo un contributo per la riuscita delle iniziative, quindi ringraziamo davvero di cuore. Quindi siete riusciti a portare a compimento tutto quanto avevate programmato per questa iniziativa di livello nazionale? Sì, grazie alla collaborazione che ci è arrivata da enti e istituzioni anche culturali del territorio siamo riusciti a coprire anche le visite che avevamo previsto per dare il giusto merito al territorio di Clusone vista la valenza anche turistica per il nostro territorio e a questo proposito la collaborazione si è estesa a enti appunto anche culturali per cui vorrei ringraziare proprio perché non hanno fatto mancare il loro sostegno il coro Idica che ha accolto i nostri partecipanti con un concerto proprio la sera di lunedì 22 visit Clusone lo yacht di Lovere la casa Museo Fantoni la signora Ferri Silvia che ci ha accolti in questa sua avventura imprenditoriale che è il Nosciatel 1928 e Monsignor Vorlini per aver aperto le porte della Chiesa della Madonna del Paradiso sia per le visite guidate fatte dai nostri studenti che per il concerto del coro Idica scuole da diverse parti d'Italia anche dalla Liguria da Imperia per la precisione com'è stata questa esperienza in Vasseriana? L'esperienza è stata ottima anzi ringrazio la dirigenza e tutto lo staff del Fantoni che ci hanno ospitato abbiamo avuto modo di conoscere una realtà per noi abbastanza diversa insomma da quella a cui siamo abituati è stato bello poter visitare i dintorni poter visitare e vedere tante realtà culturali così interessanti e anche per i nostri studenti confrontarsi con appunto allievi di altre realtà e ogni anno anche migliorare le loro capacità professionali quindi credo che sia comunque un'esperienza da ripetere e speriamo di essere ospitati anche in un'altra occasione La carica dei 600 al via della non competitiva Quaterpass in Da Selva a cura del gruppo sportivo Fiorina in collaborazione con l'Avis di Clusone parte del ricavato sarà devoluto per i progetti Malawi del volontario Agostino Tino Trussardi vediamo com'è andata 25 aprile è dedicato a camminare è dedicato all'oratorio delle Fiorine ma è dedicato soprattutto alla solidarietà innanzitutto com'è andata questa manifestazione? Quanti numeri? Quanti iscritti? Siamo molto contenti abbiamo raggiunto una soglia di 680 partecipanti e la carica 25 aprile un appuntamento fisso per il gruppo sportivo Fiorine per la comunità delle Fiorine per la parrocchia in collaborazione con l'Avis Quaterpass in Da Selva abbiamo raggiunto 680 persone e questa camminata è stata voluta per far conoscere la nostra bellissima pineta e soprattutto anche per dare un prezioso contributo al nostro Tino che è in Malawi infatti lo slogan di questo evento è aiutiamo Tino Andiamo a conoscere questa missione quindi l'ha sentito telefonicamente emozionato per tanto bene verso la sua missione Sì, Tino si trova in Malawi ha già realizzato una scuola degli asili e un sacco di pozzi i prossimi progetti sono ampliare la scuola con due nuove aule realizzare un nuovo asilo in un villaggio vicino di 17 km di distanza e poi da maggio partirà 180 km da dove è adesso lui in Malawi per realizzare altri 20-25 e speriamo anche più pozzi perché è una parte grossa del suo lavoro ma più quella riuscire a portare l'acqua nei villaggi che non debbano più continuamente spostarsi andare a cercarla fuori Tino l'abbiamo sentito prima telefonicamente mi aveva già ricontattato ieri sera per cui davvero lui è sempre molto contento di questa iniziativa e come ogni volta ringrazia dell'impegno che comunque vogliamo mettere a disposizione per lui ancora una volta la comunità si è mossa quindi tanti volontari che collaborano per l'ottima riuscita sì come sempre a questa esperienza collaborano un sacco di volontari molti fan parte del gruppo sportivo Fiorine altri invece fan parte dell'oratorio e della parrocchia quindi davvero è sempre una bella esperienza e poi è bello vedere tanta gente che viene anche per questa iniziativa oggi ho saputo oggi che c'era anche una ragazza dalla Polonia che è venuta a vedere come le nostre oratori le nostre attività svolgono le iniziative in vista di portare là anche qualche proposta per loro non finiscono qua le iniziative del vostro gruppo ci sarà anche un torneo a cui tenete molto sì torneo 51esimo torneo primavera notturno è un torneo che è a noi particolarmente caro e abbiamo inizia è già iniziato questa settimana per poter far stare nei tempi tutte le squadre iniziamo con le categorie primi calci fino a arrivare alle categorie dilettanti ci spostiamo ora a Vertova dove continua fino alla 5 maggio negli spazi dell'ex convento la mostra che racconta il percorso artistico di Vittorio Bellini pittore e scultore originario del paese Vittorio Bellini Una vita a colori è la mostra che è allestita all'ex convento di Vertova e vuole raccontare Vittorio Bellini artista nativo del paese di Vertova a curare la mostra alla figlia Beatrice come è stato concepito questo percorso espositivo Allora io ho ideato questa mostra con l'intento di far conoscere in maniera più completa il lungo percorso artistico di mio papà ma soprattutto dimostrare e dimostrare l'evoluzione artistica che è cambiata nel corso degli anni tant'è vero che per rendere più fruibile e semplice anche la visita agli spettatori a pubblico l'ho suddivisa in sei sezioni partendo dal periodo più giovanile alla maturità la mostra si sviluppa in un arco di tempo dal 1951 al 2006 la prima opera del 51 è stata dipinta da mio papà a 15 anni quindi visitando la mostra si vede proprio il cambiamento l'evoluzione che ha portato poi il papà anche a raggiungere successi anche internazionali in periodi differenti uno dall'altro invito veramente il pubblico a visitare e approfondire la pittura di mio papà perché in 60 anni di pittura è riuscito a lasciarci un ricordo meraviglioso ci sono quadri quindi pittura ma anche sculture in effetti mio papà era anche scultore nel 1990 inizia ad affiancare alla pittura anche la scultura utilizzando materiali malleabili come la juta la carta la sabbia il polistirolo prediligendo soggetti religiosi come le pietà il Cristo a tal proposito nel 2009 gli è stata organizzata proprio la sua ultima personale presso il centro San Bartolomeo di Bergamo voluta dai frati Domenicani in occasione della Santa Pasqua questa mostra che si intitolava Pathos è proprio stata la sua ultima esposizione oltre ai soggetti religiosi ha creato sculture che rappresentavano gli artisti un suo autoritratto persone semplici persone artigiani lavoratori del popolo erano sempre i soggetti che lui predigeva anche quando dipingeva i soggetti figurativi le persone persone gente di paese questi sono un po' i titoli che dava ai suoi quadri che rappresentavano le figure fino a quando si potrà visitare la mostra la mostra è aperta fino al 5 maggio è aperta tutti i giorni con ingresso gratuito da lunedì al venerdì il pomeriggio dalle 15 alle 19.30 mentre sabato e festivi è aperta anche al mattino dalle 10 alle 12.30 e pomeriggio dalle 15 alle 19.30 sono disponibili anche giovedì e venerdì pomeriggio per visite guidate gratuite per gruppi dai 5 alle 15 persone massimo se possibile su prenotazione o arrivando direttamente qui al centro culturale dove mi trovano comunque fino alla fine della mostra andiamo a vedere i programmi della serata su Antenna 2 alle 20.05 paddock alle 21.30 lo sport di base si racconta a cura del centro sportivo italiano alle 22 True Italian Experience alle 22.30 la seconda edizione del TG alle 23.05 la rubrica di sport Hard Track alle 23.40 la rubrica Il sasso nello stagno e a mezzanotte e 30 la terza edizione del TG di Antenna 2 la manaco del giorno domani venerdì 26 aprile il sole sorge alle 6.09 tramonta alle 20.27 la luna è calante sorge alle 23.34 e tramonta alle 7.42 di sabato la chiesa ricorda San Marcellino e con questo è tutto dopo il TG andrà in onda il TG Sport e le previsioni del tempo a tutti voi una buona serata a tutti i tG tutti i tG